Covid-19, quattro regioni italiane verso la zona gialla. Con gli attuali parametri già quattro regioni potrebbero entrare in zona gialla e sono Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. La Campania potrebbe però avere ancora qualche speranza di restare in zona bianca. Attualmente fra i parametri sotto la lente del Ministero della Salute e del CTS c'è l'incidenza del nuovo coronavirus ogni 100.000 abitanti. Se superano i 50 casi si passa in zona gialla. Scatta l'allarme con un combinato di contagi RT, superamento del 40% del tasso di occupazione delle aree mediche e del 30% quelle delle terapie intensive. Intanto il commissario Figliuolo annuncia se necessario si farà la terza dose del vaccino anti-Covid. Non si sa ancora se sarà necessaria ma noi siamo attrezzati per la terza dose. Attraverso l'Unione Europea prenderemo grossi quantitativi ma usciamo dalla logica AB. Contiamo su capacità dei medici, di medicina generale, pediatri, farmacisti. Il 45% della popolazione è vaccinata ma non basta. Vanno intercettati gli indecisi per raggiungere l'immunità di gregge e sulle vaccinazioni. Secondo il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca è importante vaccinare tutti gli studenti entro l'inizio dell'anno scolastico per garantire un ritorno in sicurezza e una continuità degli studi in presenza. È una chiamata alla responsabilità di tutti scegliere di vaccinarsi dice invece il ministro alle politiche giovanili Fabiana Dadone in visita nella città dei templi di Pestum. Fatto come ministero delle politiche giovanili un'iniziativa di sensibilizzazione proprio per chiedere ai ragazzi di rendersi parte di questa grande fase di vaccinazione. Non è una questione di obbligatorietà ma una questione di sensibilizzare e spingere a capire che più ci vacciniamo più riusciamo a raggiungere l'immunità che permetta a tutte le fasce di popolazione soprattutto le più anziane di riuscire ad essere al sicuro. Quindi è un po' una chiamata alla responsabilità da parte di tutti ma devo dire che i ragazzi finora hanno reagito molto positivamente e hanno partecipato tanto.